Ci troviamo nello stand Zettalinea. Zettalinea è un importatore che esiste da 38 anni ed è presente in tutto il territorio italiano. Distribuiamo vari marchi europei cercando di dare il miglior risultato in termini di tecnica, di assistenza, di supporto a rivenditori per dare al cliente finale il giusto prodotto secondo quelle che sono le selezioni che noi realizziamo ogni anno. Con i nostri partner, aziende che hanno un'esperienza pluriennale fino addirittura ai 170 anni di Deville che è l'azienda più storica in cui lavoriamo.